La triste notizia della scomparsa di Matilda, la dolcissima bulldog francese di Chiara Ferragni ha commosso il cuore di milioni di persone sui social. Nel 2020 alla cagnolina era stato diagnosticato un tumore dopo una crisi epilettica. E da allora la famiglia Ferragni ha vissuto con consapevolezza e preparazione l'inevitabile addio alla loro adorata compagna a quattro zampe. Prima di continuare per piacere iscrivetevi al nostro canale perché solo grazie a questo piccolo gesto da parte vostra noi possiamo tenere vivo il canale. In un toccante messaggio pubblicato sui suoi social Chiara Ferragni ha voluto dedicare parole cariche di amore e gratitudine a Matilda. La cagnolina che condiviso con lei 13 intensi anni di vita è stata descritta come una bambina e un'amica, sempre pronta a farle compagnia e a donarle amore quando ne aveva bisogno. Chiara ha ricordato come Matilda sia stata parte fondamentale della sua famiglia, influenzando anche il destino che ha portato Chiara e Fedez a incontrarsi. Il post è stato un commovente addio a Matilda che sarà per sempre la sua prima bimba. Anche Fedez ha voluto condividere il suo dolore per la perdita di Matilda. Ha rivelato che la dolce cagnolina è stato il motivo per cui lui e Chiara si sono conosciuti e durante i sette anni trascorsi insieme Matilda ha fatto parte di ogni momento importante della loro vita. Fedez ha descritto l'ultimo abbraccio alla loro prima bimba con profonda tristezza, testimoniando il legame indissolubile che le univa a Matilda. Tra le tante persone che hanno manifestato vicinanza ai Ferragnez c'è stata una reazione inaspettata da parte di Oriana Marzoli. L'ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, che ha avuto modo di conoscere Chiara e Federico in un locale di Forte dei Marmi, si è mostrata profondamente commossa dalla notizia. Anche lei possiede un bulldog francese, il dolcissimo Cocco, e l'addio di Matilda ha risvegliato in lei sentimenti di tristezza e affetto per il proprio amato cane. Oriana ha condiviso una storia su Instagram, in cui visibilmente commossa ha espresso tutta la sua pena e compassione per Chiara Ferragni e la perdita di Matilda. La scomparsa della cagnolina ha lasciato un vuoto nel coro di Chiara Ferragni, Fedez e di tanti fan che hanno seguito le vicende della loro famiglia attraverso i social. L'addio all'allora amata Matilda ha toccato anche le corde emotive di Oriana Marzoli, che ha condiviso con sincerità il suo dolore e l'amore profondo che nutre per il suo cocco. Matilda rimarrà sempre nei ricordi e nel cuore di chi l'ha conosciuta. E il suo legame speciale con la famiglia Ferragni e il suo legame speciale con la famiglia Ferragni continuerà a vivere attraverso i loro preziosi ricordi. Grazie per la visione!